Ad averne cantanti come te, che poi tu hai incominciato la ragazzina a cantare, ma la cosa che ho scoperto è che hai incominciato da ragazzino, l'hai scoperto pure tu, porca miseria, lo sapete che lei ha debuttato come maschietto? Abbiamo la prova, questo qui è il disco, tu ce l'hai o non ce l'ho questo? Chiamatemi Andrea, questo è il primo disco che ha fatto Giorgia, chiamandosi Andrea, l'ascoltiamo, 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 vai vai vai, ciao, ma chi sei? Questa è la voce dell'attrice, Cristina Montefiori, e tu? Io non ti ho mai visto, no, non mi avete visto mai signori, però vi ho scelto come genitori, ma come ti chiami? Chiamatemi Andrea, fatemi entrare, non basta questo per potermi amare? D'accordo Andrea, ma spiegami bene Non chiederò Afonato Afonato